Eh, non è facile. Mi viene da dire che se lui prima ha detto che si sentiva dopo l'intervento dell'altissimo di De Bernardi con la piacerina di Marcio, con un regalo, io a questo punto mi sento, mi sento sì, di quegli annaffiatoi che stanno automatici, che stanno nel giardinetto che ripive a schiera e mi rialza. Tali e tanti sono gli spunti, gli stimo, i temi trattati che sinceramente, sì, mi sono avnotato fino all'inizio, ma a questo punto sopra e proprio ora allora. E allora, faiando la festa d'oro, tento di cavarmi una cosa. Anche per non, magari per non arrivare l'attenzione di chi mi ha già sentito una o più volte. Tanto, moltissime cose, di quelle che avrei voluto dire, sono anche state detto, in modo anche più approfondito di quanto avrei potuto fare io. Raccontiamo la storia di questo libro, la fortuna che ho avuto e di cui sono ben consapevole ed è quello che mi ha indotto a cedere un giorno alle sue insistenze, perché era responsabile della stessuale di questo libro, lui, il secondo ordine Franzi Merri, ma soprattutto lui, che mi sa proprio un paio d'anni fa. La voglia c'era già da anni e la voglia mi nasceva proprio da delle registrazioni e delle testimonianze che avevo raccolto quando, casualissimamente, agli anni 80, nell'81, riuscì finalmente, dopo anni, e ci avevo rinunciato, riuscì finalmente a trovare la prima cosa che mi avrebbe poi consentito di arrivare a quegli ultimi sette capisti ancora viventi all'epoca. Il primo tentativismo che era partito, peraltro, con enorme speranze e aspettative da parte mia, avevo cominciato le licenze sulle brigate garibaldi nel 75, il primo tentativo mi era stato facilitato, mi era stato aperto da Giuseppe Lignati, che già allora era segnale di un istituto, io ero questo gruppezaro estremista, senza neanche essere iscritto, abbartito, che s'occupava 20 anni di piombo, di cose, quantomeno, che suscitavano diffidenza e un po' di sospetto. Pepino riuscì, però, a procurarmi questo appuntamento con Giovanni Pesci, allora presidente riguardo ai giornati della città di Milano. Mi ricordo che arrivai qui alle tre, il mio registratore, le borse, i documenti, tutto è... la segretaria mi fece... la segretaria mi fece accomodare questo bellissimo ufficio, ricordo queste tre poltrone uguali, fortunatamente comodissime, perché arrivarono le quattro, arrivarono le quattro e mezza, arrivarono le cinque, arrivarono le segretaria che ci sono seduto ad aspettare. Dopo un ora cominciai a uscire a chiedere timidamente alla segretaria se avessi notizie, se ci fosse stato qualche contattempo. Alessandro IV mi ricordo che mi disarmai e vedi via, e presi atto disarmarti è bello si ma si è scendato armato si, quali le lezioni e soprattutto le aspettative di speranza presi atto quella che non è una sfesta scasuale e nei giorni successivi mi non c'erano niente Giovanni l'avrei poi incontrato la nostra notizia sarebbe nata anni dopo perché io sto parlando del 76 dopo l'italieno mi incontrai con Giovanni e quindi quando negli anni 80 improvvisamente una mattina mia moglie mi chiamò dall'arbi dove andate a fare la riunione dicendomi di conere perché l'armario aveva saluto fuori un pacco e no un grosso pacco legato con uno spago carto da macellario c'erano c'erano dei documenti precipitare mi ricordo documenti vennero messi in una stanza che sembrava un cubetto sembrava una stanza di drogatori c'era una porta una finestra la stanza aveva più di due e mezzo per due e mezzo un tavolino a centro questo pacco enorme sopra e quando lo apri ancora un po' mi prese un colpo perché neanche a farlo apposta i primi documenti riguardavano GAP non avevo trovato un solo documento fino a quel momento che riguardasse GAP per la prima volta Peppino lo sa confesso di aver commesso una grande scorrezzezza conoscendo i tempi procedurali del vecchio partito comunista che erano un po' gli stessi derrapi perché gli uomini erano gli stessi immaginai subito che prima di poter consultare tutti quei documenti sarebbero trascorsi i mesi che li fatti poi trascorsi e passarono 8 o 9 prima di prima di avermi forse di più e allora ne aveva stato consentito di rifrarmi con la borsa presi qualche segnice in finale una pregata di documenti la prima me la infilai e le riportai arrivai qui mostratoli subito per me dicendo guarda che miniera ho trovato e grazie a quei documenti mi fu possibile ritracciare Augusto Mori questo personaggio straordinario che per valore coraggio audacia applicazione io gli parlo a Giovanni Pesce un uomo della modestia incredibile uno come gli altri non sai capisti dimenticati ancora tutti iscritti al partito e che mi consentì di contattare l'altro e poi erano note e quindi li ritrovai tutti a sette quello che mi venne fuori da quegli incontri e dalle registrazioni mi confermò mi confermò traspariva dai documenti ma proprio traspariva che la realtà che capisco quanto meno milanese era profondamente diversa da come c'era stata raccontata dalla storia fotografia ufficiale di partito e anche dalla memorialistica buchi neri certo non rimanevano ma innanzitutto quello che traspariva era l'enorme difficoltà della creazione di questi documenti il fatto che ha un primo ristrentissimo nucleo di se stessi peraltro i quattro moschettieri che stanno si può dire all'origine del mito dei campi d'Alessi Mantovani La Frata Camesasca D'Amesona a questi quattro guarda furono di uomini la decenzione di Camesasca già legati da altri al partito le nuove leve quelle dei giovani sono quelle che ha descritto prima De Bernardi riassumo così non erano diventati gappisti non diventavano gappisti perché comunisti il contrario diventavano o meno diventavano chiese la descrizione del partito comunista perché prima avevano rinunciato a puntare le gappe ed erano mossi non dal sacro furore dalla fiacco illuminante del verbo di Lenin o del marxismo no erano una mossa delle motivazioni che Guido Quasa ha riassunto nella vocazione del fascismo esistenziale percorsi in vita differenti in sofferenza che lascevano adesso lo sto a ripetere da episodi interiorizzati e che avevano man mano cementato l'orbo antifascismo ideologico prepolitico e che però avevano trovato questa era stata la grande capacità e la grande funzione del partito comunista che avevano trovato nel partito comunista sicuramente l'organizzazione non solo più efficiente ma quella sicuramente più decisa a combattere realmente fino in fondo nazisti e fascisti e a fronte di un antifascismo così vivo come era quello di quei ragazzi bisognosi come tutti i ragazzi di 18-20 anni di fare soprattutto in momenti come quelli è da lì che si sviluppa il primo campismo milanese nei rapporti a quelli di questi uomini mi usciva qualcos'altro qualcos'altro di cui ho avuto la fortuna di trovare le conferme dopo il terzo l'ultimo della federazione del PC milanese dell'istituto dove anche lì sono avversi alcuni documenti che confermano ripeto per l'unica volta quanto già avevano sospettato le punte dell'ais perché emergevano e si arriva fuori ormai un buon piano cioè le enorme difficoltà di campismo milanese c'è un passaggio in una delle prime lettere perché l'unica 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 scambia delle pittolari in una direzione romana informando sui sviluppi dell'altra parte dell'Italia centrale e in Milano l'unica l'unica accetta proprio alle difficoltà che provengono dice soprattutto dai nostri alleati ma anche dal nostro interno e in effetti il campismo incontrerà per tutti i suoi 20 mesi tra l'agnata esistenza che adulti che ricostituzione non incontrerà mai il massimo della solicitudine dell'attenzione delle procure da parte della vigenza federale questo credo poterlo dire tantissimamente credo anche che l'hanno dimostrato grazie proprio alla documentazione interna alle ripetute radianze dei comandi militari la federazione italese è la federazione in cui i centri sono se non completamente in parte in parte o una parte resti a una lotta la banda le più pratiche si rifanno a quelle del terroresco ed è naturale se non ci pensiamo innanzitutto perché questo non c'era soltanto la rinutanza della federazione della direzione politica da cui i campi pettevano ad impegnarsi a fondo per sostenerne la lotta ma quella dell'unitanza rispettavano un'unitanza ancora più alta e più vasta che c'era tra la classe superaia e fra gli stessi militanti del partito brava la serie se noi dobbiamo vedere tottolo quel gruppo iniziale Augusto Mori che forse è uno o due a porta dei 300 campisti che ci erano negli 20 mesi nell'organizzazione di Laresce i vecchi comunisti sono li contiamo sui tutti i due marchi quando dico vecchi comunisti lo intendo ovviamente uomini di 40 anni a parte che i primi dei sestesi hanno sull'autore 35 34 gli altri saranno tutti giovani ma non c'è nessuno che voglia prendere cioè benché sicuramente doteranno di quella che avremo la maggior coscienza politica la strada di per l'ispo non la voglia impogliare nessuno è già difficile far scegliere loro quella della montagna cioè c'è una lettera di Roma e di sei che ha la felicità di l'anesimo giugno il 44 in cui dice ma è possibile che non siate capaci di trovare almeno 7 o 8 compagni per settore nel viare in montagna e quindi dicevo è complessibile innanzitutto perché se vi voleva improvvisamente questa base dalle federazioni dalle indirigenze a scendere tutti vengono chiamati a parte che sono stati condannati fino al giorno prima e questo da un lato ci dice ci dice tante cose sulla sull'ingegneranza sul grande ruolo svolto dalla direzione del pc anche qui sintetizziamo parlando di direzione ma insomma le carriere non erano mica uguali a loro se che non era uguale a una sola bisognerebbe rispirebbe poi scoprare come diceva Salto noi purtroppo abbiamo perso il treno non riusciremo mai non riusciremo mai più a ricostruire la storia del gappismo o dei gappismi urbani perché sono scompassi che stivano a cominciare le dirigenze federali ammesso che cose di cui io dubito ci avrebbero detto qualcosa ma perché perché noi parliamo di un partito che non è quello che esce dalla resistenza nella resistenza in quei 20 mesi si fa come quanto il partito il partito sta in quei 20 mesi diventando mese dopo mese faticusamente con travaglio interno e che dureranno anche dopo quel blocco granitico che noi immaginiamo ma il partito che si affassa la lotta armata è una setta una setta che non ha praticamente una dirigenza perché non ce l'ha la dirigenza si formerà con i 20 mesi una dirigenza poi che è tutt'altro che come dire diventute omogenee e condivise basta pensare a cosa di vivere per i primi mesi la direzione del nord da quella romana non parliamo poi all'interno dei dissensi fra la mentola ma sola immaginiamoci cos'erano le federazioni le dirigenze federali nel caso di quella milanese sono loro stessi in alcuni mesi dopo nel rapporto utilizzativo raccontando la situazione della federazione milanese a riproso sintetizzando diranno allora 25 minuti ci accolti assolutamente impreparati la base era una base di invitanti colpiti dalla repressione di roperti sparsi senza collegamenti fra loro venne formato il comitato federale con quello che passava il convertito si lascia intuire e quindi con bravissimi compagni di questa azione operaia che fecero tutto quello che potevano ma di scarsa levatura politica e di capacità limitate questo era il quadro della situazione ora siccome questo non è il quadro della situazione soltanto finalista e siccome i campi ben verano prima ancora che dall'organizzazione militare dall'organizzazione militare ma soprattutto dal segretario politico federale è chiaro che le diversità al di là di quelle di composizione sociale eccetera eccetera che noi le troviamo nei diversi campirvi forse forse ce ne sarebbero spiegate meglio se quei di certi non se ne fossero andati senza dirci nulla o meglio non senza dirci nulla concordando tutti su una versione che poi diventata quella ufficiale ma che ben d'altra ma la realtà ma pensate soltanto e che poi è stata confermata anche dall'autorevolezza che non li ha visti come pesce pensate soltanto all'immagine del campista questo solitario giustiziere che non ha paura di nulla e che vive nell'insolvamento assoluto che dal momento in cui entra a far parte dell'organizzazione campista abbandona famiglia casa lavoro quartiere entra nell'anonimato più assoluto Giovanni pesce si probabilmente gli altri comandanti che l'hanno preceduto si gli altri campisti milanesi vengono arrestati tutti a casa loro dove vivono con la paura con il papa che ha sposato con la moglie e con i figli dovrebbero aver rotto ogni legame ogni rapporto nel primo campismo i campisti del Matteotti si ritrovano tutti alla bottiglieria d'acce in una traversa di via Porgacini quasi tutte le sere altri del Matteotti e del Rossegni si ritrovano a mancare il merito al pomeriggio a giocare a carta all'Ambaradà che era in questo locale di via Bonanti dove infatti il 30 di aprile verranno presi con la retarta su una soffiata e quindi come vedete cioè è un'immagine che confesero un po' ma è naturale è naturale ma insomma per fare perfino vedere la clandestinità più assoluta per il terrorismo un pacco che qualcuno e qualcuno non sa molto bene non per esperienza terroristica in Italia da perlotte condotte in altre parti del mondo ci vogliono ci vogliono mezzi ci vogliono se si chiede a un operario a un padre di famiglia o comunque a un giovane di abbandonare il lavoro bisogna passare di quanto meno uno stipendio che si mette e se un operario di famiglia deve bastare anche per mantenere la famiglia se gli si chiede di abbandonare la casa l'abitazione bisogna trovare un rifugio una base e poi si comporta speso speso che la federazione italiana era in grande di affrontare a occhio croce buttandola lì si fai fretta a fare i conti quanto meno se la cifra dei campisti si aggira sui 40 e 50 ci vogliono almeno 60 70 mila lire solo per il loro bensin solo per il loro mantenimento più di appartamenti più di altre spese l'asperazione comunista non era in grande per me di sforzare questi soldi e soprattutto insisto c'era una rinutazza che era una rinutazza culturale insomma la rinutazza di dire certi che era l'espressione di una classe operaia a cui non appartenevano tradizioni di notte omate e che aveva un tipo terroristico noto proprio anche in questo senso cioè il libro di salto poi mi è stato utilissimo io mi ricordo una sua mail in cui mi chiedeva i tempi perché ci dicevano vabbè il primo che esce aveva fra l'altro la possibilità di mostrare a ripetere cose e che rimanda mi ero spilacciato a dire che avrei chiuso prima di lui e poi invece ho finito per cui l'avete attaccato sono stato io sono stato io perché anche se il corso d'opera ci scambiavamo con quello che stavo scrivendo ho potuto beneficiare del fatto che il suo libro mi ha dato un supporto non differente leggero panoramico che la prima volta lui aveva messo insieme le sue considerazioni quella che mi usciva erano delle conferme di quello che io li ho trovato a Milano e quindi questo mi aveva anche come dire che vogliate a continuare su quella strada cosa mi è fuori dalla storia della strada di Campo Milanesi la strada di Campo Milanesi ma come del resto dalle altre storie del Campo basta pensare alla recentissima pubblicazione della relazione sull'attività degli artisti fiorentini che è proprio di questo avese pubblicanza sull'ultimo volume di ricerche storiche anche lì pure guarda è un paese storici anche lì anche lì non mancano le reticenze però però quantomeno ci sono due brevissimi periodi in cui l'estensore è appista all'epoca la bettata le stesse attività che si ritrova a Milano le sufficienze di carattere tecnico di comprensione dell'organizzazione politica dell'eserizzo federale nei confronti dei bisogni e delle necessità e conclude questo lungo documento dove vengono legate tutte le azioni compiute e conclude se non si sarebbe potuto fare di più se il partito che fosse mosso maggiormente che è poi la stessa identica cosa che viene che viene lamentata a Milano ed è proprio però grazie anche come dire oltre che all'importantissimo decisivo determinante ruolo svuoto dai GAP come elemento detonatore per creare una atmosfera di guerra dove all'inizio manca completamente e proprio grazie però a questa lavorazione che al contempo rivela anche i limiti del campismo e anche qui ci viene a fare un'altra cosa non ce ne esce un'immagine di una direzione ma tra lezze sicuramente con dirigenti straordinari uomini straordinari che però avevano capito fin dall'inizio quale era la strada da percorrere e i mezzi per percorrere ma no la storia del campismo come la storia di tutta la lotta partigiana è una storia di aggiustamenti continuo non c'è niente già previsto questo appartiene alla narrazione del dono alla grandezza alla gloria di 10 centri e di una direzione che i campi partiti non hanno mai avuto uguale ma che prova le sigle che dal primo documento scritto di Roasio a quello che sarà il camp del nuovo divenire e come si presentano nell'ultima fase c'è la più sale differenza i campi erano concepiti inizialmente evidente sarebbe stato un prodotto di importazione una sperimentazione importante dalla Francia i campi erano inizialmente concepiti come gruppi di azione di po' audaci che quando verrà il momento perché probabilmente le condizioni oggettive soggettive non consentono cominceranno ad agire dimostrarlo come un esempio eccetera 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 e col tempo coaguleranno attireranno a sé forze sempre maggiori attraverso le quali si formeranno quello che avrebbe dovuto essere l'esercito partigiale e la realtà dimostrerà che non sarà possibile perché già il terrorismo non si sviluppa un'organizzazione di massa perché le regole a cui deve sottostare un'organizzazione terroristica sono di per sé spese inibitive del sviluppo della lotta quanto meno il carattere di massa e però ci vorranno dei mesi ci vorrà l'esperienza dello sciopero generale del marzo del 44 che convince la direzione che possono fare di tutto tranne che fornire davvero assistenza e protezione alle notte operai di massa sì certo gli scambi fatti saltare in altre città e ci saranno interventi ma non era questa la funzione che avrebbero potuto assorbire e soprattutto non possono essere possono essere un elemento che entusiasca la forza speranza alle notte di massa ma non possono essere un'organizzazione che attira che attira le massa proprio per le loro caratteristiche i pericoli i problemi di ordine morale e tutti gli altri che sono stati detti e quindi sarà fatto attraverso i limiti del capismo che si arriverà a concepire quello che è così attivo ormai essendo che mi sento degli Peppino mi batteggio 30 anni fa la mamma delle sap e mi sembra e mi sembra di parlare come dire di famiglia sarà far messo i limiti la costruzione dei limiti del campo quello che riuscirà a fare un balzo di qualità alla concezione comunista della lotta e che si tradurrà nell'organizzazione di squadre di azione patriotica dei centri urbani basati soprattutto sulle grandi fabbriche e nella piattura poi invece dei paesi dei piccoli centri e nella caratteristica peraltro la più io trovo la più legittima della resistenza italiana ed è un accennale un accennale di commissione del partito comunista però io lo ripeto tutte le volte nell'intera resistenza europea non c'è un fenomeno anale nella lotta armata europea non c'è nulla che possa notamente essere paragonato alla concezione dell'organizzazione della lotta armata sappista e sarà quella che condurrà di soluzione e con lo sviluppo della lotta sappista comincerà come si è detto il gatto di spalla del fucile e il teplino della centralità del gambismo nella lotta armata e il terrorismo urbano le SAP con ruoli inizialmente bene impedativi in realtà diventeranno organizzazioni pregate con centinaia con cento trecento uomini sicuramente il 90% dei quali non in grado di svolgere le azioni gambiste ma in ogni brigata fattista ce ne sarà appena una dozzina che faranno lo stesso del piccolo lavoro del gatto e quindi e il più e il più con legami sul territorio un radicamento uno sviluppo e un'estensione che saranno sì decisivi determinati nel costruire il processo che porterà la soluzione e che non avranno mai potuto essere compiuto dal gap i gap i gap restano non possiamo dire senza ancora il rischio di scadere di una ritoria restano quel numero imitato di eroici combattenti che hanno acceso la speranza quando il buio era più nero quando nulla sembrava possibile che hanno dimostrato la possibilità di compiere il debito la sua vulnerabilità che hanno messo la perdita nei apparenti di sicurezza che hanno screditato la capacità la pretesa la capacità della Repubblica di presentarsi ai ben pensati come il garante dell'ordine sono stati coloro che hanno soffermato nei momenti tragici di cui la montagna versava in crisi ma dopo aver fatto tutto questo non potevano non potevano essere impostatori dell'insurrezione un punto che passa ad altro e il gap guardano solamente e lì inizia questa strada ricerca legata alla memoria del gap persino nelle giornate insurrezionate io ho scritto ho scritto non c'è una fotografia nelle celebrazioni nei festeggiamenti dell'insurrezione a Milano in questa lunga sfilata ci sono fotografati in tali brigati non c'è un cartello scritto terza gap non c'è il volto di un gapista rietro tutti dalla minima o forse si può pensare che non era il caso di fotografarli perché non si sapeva insomma ancora come sarebbero come si sarebbero poi evoluti le cose e quindi non è forse una forzatura pensate bisognerebbe organizzare le fotografie delle altre manifestazioni ma credo che sia la stessa cosa poi poi ci sarà la dimenticanza pensate è il primo libro la prima edizione di Cereberry di Senza Trego di Giovanni Pesce quando esce nel 1951 per le edizioni sociali giornale suissima fortuna così come l'architettura il libro di Italo Busetto di un lettore di SAC e comandante provinciale del Sato Puglianese verrà addirittura ritirato proprio dopo la sua uscita a reggiorno oggi mi ricordo che quando finalmente sempre Peppino ne procurò una coppia mi immaginavo di trovarci chissà cosa chissà cosa niente semplicemente perché Busetto faceva dei nomi di alcuni combattenti e alcuni e alcuni campisti alcuni combattenti eccitavano alcune azioni e che eravano però le tanti della criminalizzazione e quindi per il partito le cose che non dovevano essere scritte quindi immaginiamoci immaginiamoci se il partito i tiri certi sarebbero stati disponibili a raccontarci tutto ciò e abbiamo conto e che purtroppo ci lascerà ancora molti vuoti in tempo non riusciremo mai a colpare credo quanto meno però e credo di parlare a chi è un esatto la soddisfazione però di aggiungere qualcosa in più magari di non essere riusciti a dare tutte le risposte però sull'arca interrogativo quanto è qua chissà sono interrogativi forse forse speriamo risponderà a qualcun'altra domanda intanto è da porto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti